Dopo essere il mio recato al pacchetto di Piazza Umberto, mi sono rimesso in marcia e sono andato alla chiesa di San Gerardo. Sono arrivato alla chiesa di San Gerardo e ora vado al parco di San Gerardo dove lì mostrerò tutto il parco. Ma prima guarda questa foto, la chiesa ha in tutta la sua bellezza. Mi sono rimesso in marcia e sono arrivato al parco di San Gerardo dove ho fatto dei video e delle foto meravigliose. Guardale! Ti piace? Iniziamo il tour Si vedi che qui il telefono traballa l'acqua e vedi il luogo dell'acqua. Anche qui guarda Il cielo era fantastico. C'era un sole splendente. Giornata fantastica. Manca poco alla fine del video. E ora andiamo a casa. Dopo le sermone messe in marcia, vado a casa. Da voi ti saluterò e ti ringrazierò per aver guardato questo video. Il tour Di Nardo Se non sei di Nardo L'avrò imparato subito. È così? Andiamo a casa Ti piaciuto il tour Di Nardo? Ciao Ciao